L'innovazione e il coinvolgimento della città sono le linee guida di Italo Rota, uno degli architetti più apprezzati nel mondo che sabato scorso ha presentato a 200 fanesi il progetto di ristrutturazione del complesso Sant'Arcangelo. Un palazzo che potrebbe diventare una vera e propria fabbrica del carnevale, cioè un grande contenitore di tutto ciò che rappresenta la creatività e il folklore fanese. Comprenderà ad esempio dei laboratori dedicati sia al jazz che alla manifestazione più antica e dolce d'Italia e per quanto riguarda il museo del carnevale sarà un luogo dedicato alla memoria collettiva e quindi chiunque potrà contribuire portando ad esempio vecchie fotografie, manifesti, oggetti e tutto ciò che possa far ricordare e fornire l'espressione della collettività. Tra le idee che l'architetto milanese ha lanciato ai fanesi c'è anche quella a tre zeri e cioè zero euro spesi per l'energia, zero quelli per la comunicazione e zero gli euro per l'uso dell'informatica attuando nuovi sistemi imprenditoriali che consentano di creare nuovi posti di lavoro. Poi diverse idee e proposte sono state raccolte anche durante l'incontro che è avvenuto in una gremita salaverde del Teatro della Fortuna ma il designer ha già fissato un ulteriore appuntamento previsto per sabato 19 marzo. L'idea di scegliere questo edificio è anche perché è vicino alla mediateca e quindi di creare, di estendere una cosa che già funziona molto bene e creare sempre di più una massa critica per i giovani e i meno giovani ma che comunque introduca il mondo contemporaneo all'interno delle mura della città. Nello stesso tempo che diventi un laboratorio in cui i giovani possono iniziarsi a nuovi mestieri e soprattutto le nuove tecnologie. Il percorso partecipativo è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale che in collaborazione con la vicina Pesaro partecipa a un bando della regione Marche che mette a disposizione dei capoluoghi 20 milioni di euro per tre progetti. La quota che dovrebbe aspettare i due comuni si aggira sui 6-7 milioni di euro, di questi circa 2 milioni e 400 mila euro potrebbero aspettare a Fano, una cifra consistente che permetterebbe di dare il via ai lavori per realizzare il progetto presentato da Rota e che ha un costo complessivo di 3 milioni di euro. La somma restante sarà finanziata dal comune di Fano, ora quindi non si deve far altro che attendere l'esito del bando regionale che scadrà il 31 marzo prossimo. Grazie a tutti.